no me lo son perso cazzo l'ho detto di levarti che dovevo filmare cazzo porca loca di là di là eh no ma ha fermato il marco è andato in terra è andato in terra solo che non l'ho beccato ma smette non vi cazzate dagli un colpetto quando se gli fa davanti e salta su non esagerare gli dai troppo poco gli dai troppo poco gas e chiudi a metà e anch'io l'ho preso anch'io l'ho preso quel legno del cazzo lì devi dargli più allora quando è su davanti devi aprire il gas ma lasciala correre quando sei su così chiudi allora te la busta avanti se no resti sempre a metà non puoi aprire il gas e dopo chiudi glielo stavo dicendo oh tu ti dà la parte facile allora senti quella di spazi casa casa che la tua si sente è andato sono qua i tubi sono qua i tubi mi sembra non mi ricordo lasciano andare dopo torna indietro da solo poi non deve andare su di là salta fuori anche di qua bisogna essere qua sopra sono mica qua che cazzo sono? sono qua in giro ma sono qua E' un po' contatto! E' un bravo! Grazie a tutti, grazie a tutti.